E' stata una buona puntata, quella andata in onda qualche sera fa di tempo, del grande fratello Vip. Che vi ricordo vede impegnata Milari Blasi in qualità di conduttrice. E' stata una nuova puntata dove i colpi di scena, le emozioni non si sono fatti disattendere, ma si sono presentate in tutta quanta la loro interezza. In buona sostanza, e riassumendo molto brevemente che cosa è successo, è successo che in nomination sono andati ben tre uomini, tre persone appartenenti al genere maschile. Sto parlando di Alessandro Cecchi Paone, il buon Stefano Sala ed infine il famoso cuoco del nord Italia Andrea Mainardi. Tutti e tre dunque vanno, in questa nuova puntata, direttamente in nomination. Per quanto riguarda invece chi è uscito dalla casa del GFVip, la persona che ha abbandonato la casa è stata Fabio Basile. Una serata piacevole tutto sommato, non ci sono state alterchie all'interno della stessa, come è già capitato in qualcun'altra del passato in cui ci sarebbe stato tra virgolette uno scontro tra Fabrizio Corona e la bella Ilari Blasi. Questa volta invece no. Bene, complimenti a tutti i concorrenti o ex concorrenti del grande fratello VIP. Congratulazioni anche alla conduttrice Ilari Blasi che conduce molto bene il programma in questione. Iscrivetevi se vi va, commentate, un caro salutone e al prossimo video da narratore italiano.